Sono Carlo Parazzoli, primo violino dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Io rimango a casa. Ne approfitto però per studiare qualcosa che avrò da suonare in appuntamenti futuri e per mantenermi in forma. Quella che avete sentito era l'incipit della quinta sonata di Beethoven, per pianoforte, la famosissima primavera, che sarà uno dei miei prossimi appuntamenti. Un altro appuntamento che voglio ricordare a tutti voi sarà il triplo di Beethoven previsto per i primi di luglio con Alexander Lonkic al pianoforte e il collega Luigi Piovano a violoncello. Vi aspetto tutti e fiducioso che ci ritroveremo tutti al più presto. Buona continuazione.